Prima edizione del torneo riservato ai giovanissimi, Nicco Paro in seguito ai sogni, otto le squadre partecipanti, Bologna, Pisa, Roma, Fiorentina, Sales, Venezia, Torino ed Empoli che si è aggiudicato nettamente la manifestazione. Un bel torneo, questi tornei servono a far crescere i ragazzi, a dargli un po' di gioia dopo questi due anni un pochino pesanti per tutti. È stata una bella festa in onore di Nicco e l'importante è questo. Poi le partite si giocano, si vincano, si perdono, però questo era un trofeo importante per ricordare questo ragazzo che è stato sfortunato e siamo felici di aver partecipato. Ma lo spirito del torneo era prevalentemente quello di ricordare Niccolò Parigi, il giovane atleta della Sales, è prematuramente scomparso. Tanti bambini qui a San Marcellino, una pasquetta alternativa. Sì, è stata veramente una bellissima festa, una bellissima festa perché otto squadre, 160 ragazzi che hanno onorato veramente il ricordo di Niccolò. Oggi in questo periodo era il compleanno di Nicco e abbiamo organizzato questa manifestazione come regalo di compleanno per lui e i ragazzi hanno capito lo spirito. È stato veramente delle giornate favolose di sport, ma di divertimento, di passione. Proprio quello che ci eravamo proposti, noi come famiglia nell'organizzazione, l'abbiamo ottenuto come risultato, oltre ad avere anche avuto delle giornate di alto livello perché ottime squadre da tutta Italia. Il torneo era anche all'insegna della beneficenza, il ricavato interamente devoluto a zia Caterina e al suo taxi Milano 25.